Cougi, ma dove sei finito? Ma ti sto aspettando da un'ora, dobbiamo registrare, lei sai che... Mamma mia, muovi il culo, dai, vieni qua Sì, dai, comincio a registrare io, tranquillo Sì, va bene lei, ciao, ciao Bella a tutti ragazzi, sono Davide Lievocosin, benvenuti in questo nuovo video Siamo nel Road to Max di Ryan Purtroppo Simone non è ancora arrivato perché c'è un po' di traffico con la moto Però ben presto arriva, cioè speriamo il più presto Nel frattempo ragazzi noi possiamo incominciare a... Cioè possiamo partire col video, come potete... Beh, la Cougi, la stai già registrando? Io la stavo già registrando, sinceramente Ma no, Cougi, magari viene male poi, no? Ma proprio che... Stai lì a guardare anche queste cose Sai cosa ho visto ieri? Ieri ho visto un video dei TFG, dei Face Game Oh, quelli là si sono messi... E' entrato Rinnega, chi è che è il secondo? Rinnega, ragazzi E' entrato Rinnega, no? E' uscito da col ciuffotto, è entrato tranquillamente Mentre tanto lo stava registrando E noi ci stiamo qua a far sti problemi Allora... No, vai, vai, unisciti, no? Fanno tutti così, no? Tanto ormai qua, chi se ne frega? Ciao a tutti ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video Sono arrivato ragazzi, scusate ma c'è sempre un casino di traffico qua Ah, si è già partito con... Ah, perfetto No, qui è già finito in verità il video Ah, è finito? Eh, invece è un partito da capo Allora ragazzi, come potete vedere... Parti? Come potete vedere ragazzi Siamo qui con un nuovo e fantastico video Road to Max Esatto Del primo account di Ryan Finalmente i nostri main account Che ce li chiedevate da tanto tempo E finalmente Finalmente ci sono Ci sono perché? Perché allora niente Qua ho registrato un po' di tempo fa Queste clip non sono di adesso Poi adesso siamo un pelo più avanti E quindi niente Facciamo qualche mura con elisi Perché come ben sapete Le mura a 10 sono veramente Veramente toste Si è spaccata una piastrella intanto E comunque A parte questo Possiamo vedere che ho un full d'oro E questo full d'oro, no? Cucci, cosa andremo a fare con questo full d'oro? Devevo sistemare le mura Sinceramente non mi ricordo No, l'arco XR4 Esatto L'arco XR4 Perchè Diciamo che volevamo portarli Cioè Maxarli all'ultimo Però abbiamo visto che in realtà In realtà sono veramente forti Sono veramente forti E quindi qui come potete vedere Ho startato anche il secondo Ora andiamo a vedere qualche attacco Insomma in questa fascia mi trovo veramente bene E come potete vedere dagli attacchi E come potete vedere in distanza di un giorno Ho fatto 8 milioni Ho fatto 8 milioni Di oro appunto per saltare l'altro Arco X Ora abbiamo Le giostre di fianco Dovevamo fare qualcosa insomma al laboratorio E sono deciso veramente tra gli spaccamuro e i pecca Mi piacciono davvero tanto gli spaccamuro Perchè è sempre È presente quel amore a prima vista no? Ecco io ce l'ho con gli spaccamuro Però facci pecca Facci pecca Pecca ancora Sole enigmista Parte 2 Facci pecca perchè Facendo comunque Le go wipe Insomma Queste cose qua Penso che i pecca Mi servono al più presto Al 5 Andiamo a vedere che c'è anche un mortaio Che sta facendo all'8 E anche l'arco X Al 4 L'ultimo arco X al 4 Dovevamo fare Quindi da 4 milioni Adesso sono passato a 6 milioni e 8 Perchè sono un mago Scocca di vita Vi faccio vedere insomma un po' Gli attacchi che ho fatto in questi ultimi giorni Cioè in questo ultimo periodo Attacco molto spesso Anche perchè con la base No con G Non mi sta bene No insomma l'orecchino con G qua Poi meglio Insomma andiamo a fare Anche con l'oro Qualche mura Perchè sennò Non sappiamo cosa fare Ho un full di elisir nero ragazzi Sono sempre sempre full Perchè E diciamo che ho solamente un eroe a fare Quindi Quindi è sempre così Invece adesso Sto cercando di portarne due eroi Quindi di elisir mi serve sempre veramente tanto Come potete vedere Mortai all'8 Fatti Quindi questo Lotto max Devo dire Bello completo Perchè Insomma abbiamo registrato Le clip Di molti giorni Devo dire Appunto come potete vedere Mortai all'8 Torri dello stregone maxate Test maxate Inferno maxate Davide è caduto un attimo Perchè in questi giorni qua Non dovete capire Che lui ha dei problemi tecnici Ogni tanto E quindi quando si scaldano Troppo a fare i video Poi dopo esaurisce Comunque Potete vedere che c'è ancora Questa torri dell'arciere qui Da maxare E niente Per il resto Anche difese aeree Cannoni Che cazzo Mi stai pescando Guggie Insomma Difese aeree Cannoni E torri dell'arciere Poi per il resto Abbiamo finito Quindi noi aspettiamo Il 24 Oggi che giorno è Ma che cazzo Oggi che giorno è Il 5 Questo video uscirà Penso domani O oggi Stasera Dipende E speriamo di vedere Questo municipio L'11 Guggie O il 12 Esatto Esatto Guggie Puoi venire su Ti voglio vedere Che cosa Poi Insomma Rebarbara il 22 Ora come ora È qualche livello Un po' più Potenziale Insomma Guggie Fagli vedere la maglietta Tu che bella Dai Fagli vedere Ragazzi Degli ho appena comprato Una maglietta Molto bella Dai Fagli vedere Intanto Qui ho fatto Un full di oro Guggie Dai Cazzo Si è spaccato Guggie Fagli vedere Guggie Fagli vedere La maglietta Che bella Che è Non riesco E quindi Full d'oro Full di Merda Guggie Guardate ragazzi Che bella Intanto Facciamo qualche muretto Se la volete comprare anche voi La pagata 105 euro Guggie dove Ragazzi ho fatto un altro arco x Guggie Ho fatto un altro arco x L'ultimo Quindi Ma lo senti Solo due Però vabbè E niente Vogliamo farvi vedere anche Le mie statistiche Appunto Brucia L'odore di bruciato Guggie Appunto Ho fatto 326 attacchi E diciamo che Siamo a una settimana Quindi Veramente ci sto Nerdando tanto No no Ma va Guggie Guggie Ancora un pochino Dai su E come potete vedere Il livello Ciao Delle truppe Insomma un po' scarsino Per il municipio 10 Questo è vero Perché va che Poi becchi quello sotto Che sta innaffiando l'erba È un po' scarsino Perché Come sapete Il giorno nel municipio Ci voglio davvero Davvero Tanto Per fare appunto Le truppe Diciamo che ho finito Questa stagione Con più di migli attacchi Questo perché Questo perché Cineardo Ragazzi Non dormo neanche Dovete capire Che Attacco Continuamente Che Sì Ed è questo Che come potete vedere Faccio davvero Tante tante mura In così poco tempo Ora se voi andate Nel nostro Carissimo Bellissimo Clan No Ok Potete vedere appunto Che con le mura Sono un bel proprio avanti Appunto fra poco Vi faremo altri Road to Mars Dove appunto Vi farò vedere Molte altre cose Poi potete vedere 882 milioni Di ore rubati E 818 Di milioni Di lisir rubati E questo Perché Volevo diventare Milionario Al più presto Miliardario 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 Solo che Non è Poi così tanto facile Anche perché Perché ragazzi Farmare Diciamo Un giorno così E non è rottore Di coglioni Quindi Fra poco invece Vi mostrerò Dove sono arrivato Tipo adesso Sono un miliardo 200 milioni Di ore rubati Tutti in mura Ma che caso Ma No Assurdo Ma che cazzo Dai da scoverto Dei reperti archeologici Che non Non ricordava Da tanto No Sì Così poi Vedi che mi Si spacca tutto Ma ti pare O almeno Ragazzi Scrivete nei commenti Se usando questa cosa qua Tipo che è un laser Assurdissimo Si spacca la fotocamera Perché dobbiamo fare dei test Comunque ragazzi Preview Del carissimo villaggio La preview È questa Cioè voi non potete Eccoci Fammi vedere là dietro Cosa succede Ah no Non si vede un cazzo Va bene La preview è questa Praticamente Tutto maxato A parte Difese aeree Torri dell'arciere E cannoni Quindi vabbè Anche i volano Però diciamo Che Ma si vede ancora Si Diciamo che Ah Eeeh Festa Eeeh Quindi niente Diciamo che Ci impegneremo Al più possibile Qui mi vengono I punti I puntini I puntini E niente ragazzi Come potete vedere Le torri d'oste Con il lotto Sono troppo belle Dai Cosa siamo Ommine donne Comunque Regina degli arcieri Messa al 23 E Diciamo che Voglio portare Il più presto A livello 40 Perché è davvero Davvero Forte Fa davvero La differenza In questo video Non si sa che cazzo dire Perché Così Come potete vedere Adesso da una clip All'altra Ho già 6 milioni Cioè Presente full Di tutto E potete anche Contare Le ore Tra Tra una clip E l'altra Che sono veramente Veramente poche Esatto Questo perché Ragazzi I gemboost Fanno miracoli Confermo Comunque Io sono sempre presente Esatto Quindi niente Nel prossimo video Del road to max Adesso Diteci nei commenti Se Volete Ah è qui Gemmato anche Sì ragazzi Un gemmone Perché ho gemmato Anche l'arquix Il 4 Quindi Reportatelo Gemmone Gemmone Adesso Andrete sotto ai video Sempre come Gemmone Gemmato Tanto non commento Questo è vero Però sinceramente Ma chi lo voglia Vodere a bere Non commento Era pochissime Gemme Comunque Diteci nei commenti Se il prossimo video Volete Più clip Oppure Una clip E qualche attacco Come insomma Fanno gli altri Resti dei canali Invece in questo video Ho cercato di portare Più clip Di più Diciamo Di più cose Concrete No E il video È di 10 minuti Più o meno È bello Bello sostanzioso Quindi Lasciate un bel like Mi raccomando Supportateci Però abbiamo Dato una cosa Abbiamo dato una cosa Quando vi è smesso Di fare i video Si aumentano gli iscritti Cioè O volete Che noi non facciamo più video E allora andiamo Ai iscrizioni Così no Cioè io domani Smetto di caricare Raga Oppure Non lo so Perché quando Quando buttiamo fuori i video Non sale di un iscritto Cioè Sono bloccati così Vabbè Non si sa Non si capisce Ragazzi Se non ci volete su youtube Basta che commentate sotto Andatevene a casa Non c'è problema No Non rispermiamo tempo Insomma E rispondiamo un bel po' di cose Quindi ragazzi Per oggi è tutto Abbiamo detto Sì C'è già finito Abbiamo detto Un sacco di frugnate Volevo stare con loro Ancora un po' Già Non ci cagano Dai Abbiamo detto un sacco di frugnate Però insomma Insomma Road to Max È questo qui Fra poco Altri nuovi Road to Max Sempre Ragazzi Rimanete Sintonizzati Sugli Evo Cusing E ragazzi Non è tutto invece Sapete perché Perché A parte quello Ma ragazzi Domani Che è esattamente Un giorno speciale Un giorno in più 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 Cosa andremo a fare ragazzi Ci troverete All'ammondatore Di Piazza Duomo E cosa faremo Ragazzi Compriamo i libri Che non abbiamo mai comprato No ragazzi Ci troverete All'ammondatore Di Piazza Duomo Perché Firmeremo I contratti Firmeremo Ragazzi Gli autografi Cioè Non venite in troppo Perché Faremo Povij La vendetta Ragazzi Firmeremo Il nostro libro Molto conosciuto Il nome Evo Cusing Guide La guida Ufficiale Completa Per diventare Uno youtuber Professionista Ragazzi Mi raccomando Vi aspettiamo In tutti i cento In tutti i cento Mi raccomando Ragazzi Vi aspettiamo Tutti quanti Ma è finito Il nome E allora Ci vediamo In un prossimo video Bene a tutti